Il mercato automobilistico russo non si è rivelato quella miniera d'oro che Ford favoleggiava e ora che il rublo è in caduta libera a causa delle tensioni internazionali, la casa americana è costretta a scalare di marcia. I vertici della sua joint venture con la russa Sollers hanno annunciato il rallentamento della produzione nella fabbrica di San Pietroburgo e il taglio di 700 posti di lavoro. Colpa del calo delle vendite è cominciato l'anno scorso e intensificatosi nei primi due mesi dell'anno, smentite dunque le promesse degli analisti che avevano previsto entro breve il sorpasso del mercato tedesco da parte di quello russo.